Il filo di ragno Un giorno, il Buddha Sakyamuni passeggiava sulla riva del lago del Loto, in paradiso. I fiori di Loto erano bianchi come perle, e dai loro pistilli dorati si spandeva perenne un aroma di indescrivibile fragranza. Era appena sorta l'alba, in paradiso. Dopo alcuni istanti, Sakyamuni arrestò il passo, e il suo sguardo andò a scrutare sotto la superficie dell'acqua, tra un loto e l'altro. L'inferno si estendeva esattamente sotto il lago del paradiso, per cui, attraverso l'acqua, trasparente come cristallo, era possibile vedere nitidamente il fiume Sanzu e il monte degli Aghi. I suoi occhi si soffermarono su un uomo di nome Candata, che strisciava là sotto insieme ad altri dannati. Era un farabutto che si era macchiato delle peggiori nefandezze. Aveva ucciso diverse persone e bruciato case. Ma Sakyamuni ricordava che almeno una volta aveva compiuto una buona azione. Mentre si trovava a passare per un bosco, Candata aveva visto un ragnetto strisciare lungo il ciglio del sentiero. Aveva già alzato il piede per schiacciarlo, quando di colpo aveva pensato «No, per piccolo che sia, dopo tutto è anche lui un essere vivente. Per quale motivo dovrei ucciderlo così crudelmente?» E alla fine lo aveva risparmiato. Mentre guardava cosa succedeva all'inferno, Sakyamuni ricordò la buona azione di Candata e come ricompense per quell'unico atto, decise di offrirgli la possibilità di fuggire. Fortuna volle che su una foglia di loto accanto a lui, un ragno del paradiso stesse tessendo un magnifico filo d'argento. Con delicatezza, Sakyamuni afferrò il filo e lo calò a picco tra i fiori bianco perla. Giù, sembra l'inferno. La giucca andata, Anna spava nel lago di sangue assieme agli altri dannati. Immaginate lo sconforto nell'illudersi di scorgere qualcosa e emergere dall'oscurità più totale, per poi scoprire che si trattava di uno dei terribili spuntoni del Monte degli Aghi. Per non parlare del silenzio di tomba, infranto solo dai sordi lamenti dei dannati, coloro che precipitano all'inferno, sfiniti dai numerevoli supplizi, perdono persino la forza di piangere. E così era anche per quel farabutto di Candata, che si inghiuzzava immerso nel sangue, contorcendosi come un rospo sul punto di morire. Un giorno, per puro caso, Candata alzò lo sguardo al cielo che sovrastava il lago di sangue e vede un filo di ragno che scendeva argentato dal paradiso, silenzioso e sottile in mezzo all'oscurità, come temoroso di essere visto da occhio umano. Ma un momento. Non stava forse scendendo proprio sopra la sua testa. Candata batte le mani dalla felicità. Non sapeva dove sarebbe andato a finire, ma di sicuro quel filo lo avrebbe condotto fuori dall'inferno. Non sapeva dove sarebbe andato a finire, ma di sicuro quel filo lo avrebbe condotto fuori dall'inferno. Con un po' di fortuna, forse, sarebbe persino riuscito ad arrivare in paradiso. Non avrebbe dovuto scalare il monte di aghi, né sarebbe rimasto a marcire in quel lago di sangue. Con questi pensieri in testa, si affrettò ad aggrapparsi al filo di ragno con entrambe le mani e iniziò ad arrampicarsi di buona lena. Era sempre stato un delinquente, per cui era abituato a cose di questo tipo. Ma il paradiso distava migliaia e migliaia di rì e per quanto cercasse di affrettarsi, raggiungerlo non sarebbe stata un'impresa semplice. Dopo un po' si sentì così esausto da non avere nemmeno la forza di muovere un braccio. Doveva fermarsi a riposare. Non aveva altra scelta. Appeso a metà strada, diede un'occhiata, fugace, in basso. Era stato bravo. Il lago di sangue in cui era immerso fino a poco prima era già scomparso dagli abissi oscuri e anche il bagliore sinistro del monte degli aghi era ormai alle sue spalle. Mantenendo quel ritmo, fuggire dall'inferno non sarebbe stata un'impresa così irrealizzabile. Aggrappato con entrambe le mani al filo di ragno, Candata rise come non gli capitava ormai da anni. «Evviva! Evviva!» esultò al colmo della felicità. Ma l'attimo seguente si accorse che dietro di lui si stava arrampicando un'incalcolabile quantità di dannati, tutti in fila come formiche. Quando li vide, sballordito e impaurito allo stesso tempo, strabuzzò gli occhi e iniziò ad urlare come un pazzo. «Quel filo sottile razzeva a malapena lui. Figuriamoci il peso di tutte quelle persone. Se il filo si spezza, precipiterò di nuovo all'inferno con tutti gli altri, anche se questo filo è stato tessuto apposta per me. Tutta la mia fatica sarà vanificata in un solo attimo. È terribile!» Mentre parlava tra sé e sé, centinaia, migliaia di dannati sbucavano fuori dall'oscurità del lago di sangue e uno dietro l'altro si inerpicavano tenaci su per quel sottile filo di ragno. «Se non faccio qualcosa adesso, il filo si spezzerà in due e sarà la fine». Così Candata alzò la voce e urlò «Maledetti dannati! Questo filo è mio! Chi vi ha dato il permesso di salire? Giù! Giù!» Accadde in quell'istante preciso. Il filo di ragno, che in qualche modo aveva retto sino a quel momento, si spezzò con un suono sordo nel punto dove l'uomo era aggrappato. In un attimo l'impotente Candata precipitò, fendendo l'aria come una trottola e in men che non si dica si ritrovò di nuovo immerso nelle tenebre. Il sottile filo di ragno penzolava Monco giù dal paradiso, restando sospeso in un cielo senza luna né stelle. Sacchiamuni, in piedi sulla riva del lago di Loto, aveva assistito a tutta la scena e quando vide Candata affondare come un sasso nel lago di sangue, riprese a passeggiare con un'espressione malinconica. La crudeltà di Candata, che aveva tentato di fuggire dall'inferno da solo e per questo aveva avuto un'adeguata punizione, ricadendoci, appariva ai suoi occhi come qualcosa di ignobile. Ma ai fiori di Loto del lago tutto questo non interessava minimamente. Candidi come perle scuotevano i loro calici al passaggio di Sacchiamuni e dai pistilli dorati si diffondeva perenne un aroma di indescrivibile fragranza. In paradiso era quasi pomeriggio. Grazie a tutti.